Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Firehush Io sono Glacial Sphere ed oggi andiamo a recuperare una cosa che ci siamo lasciati qui sulle rive del lago Valore perché altrimenti non ci fa passare questo pool o meglio lo potremmo sfidare ma andiamo comunque a recuperarci quella cosa che ci siamo lasciati indietro ovvero la Wallace Cup effettivamente mi ero dimenticato poi di parteciparvi quindi andiamo una volta battuta vera possiamo partecipare quindi alla Wallace Cup eccoci qui sei in tempo per entrare nella gara? Sei pronto? Assolutamente sì allora entreremo direi con Tor Terra poi Monferno, anzi Infernei ah solo uno? e allora andiamo con Tor Terra va bene quindi non so che Pokémon possono mandare loro in ogni caso andiamo nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video di commentare facendomi sapere cosa ne pensate e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti vai sfidiamo il primo allenatore guardalo lì Adriano nella giuria che manda in campo che è Cleon ok noi andiamo di Tor Terra mi sa che non ci sarà sfida qui ragazzi andiamo di Heart Quake ci muoviamo pure prima di lui perché usiamo il Quick Flow il Rapid Artigli oh no ok abbiamo battuto Matt questa è la battaglia i giudici ora daranno i loro punteggi Glacial vince per by a landslide non so cosa voglio dire sinceramente se di tanto o di poco comunque andiamo al round 2 vai questo è un pescatore invece tra l'altro ho visto che io avevo effettivamente tolto foglie lama a Grothal per insegnargli il mega assorbimento ed ora Regan di Tor Terra non imparerà mai più una mossa di tipo erba fisica quindi vediamo se ho la MT Semitraglia da insegnargli perché Semitraglia non dovrebbe essere per niente male comunque su di lui è una mossa che di base fa 50 danni è un po' come Missile Spillo ok intanto noi qui abbiamo completato la gara salve ho completato ok non mi dici nulla tu perfetto cosa vuoi? ah vuole insegnarci la mossa è vero niente andiamo a questo punto abbiamo battuto abbiamo completato la Wallace Cup e possiamo mettere davanti Star Hector per fargli fare un livellino ecco fatto e proseguiamo ora ci saranno un po' di allenatori da battere comunque dicevo vero andiamo a vedere se ho semitraglia negli MT dovrebbe essere all'inizio vediamo mi sa di no e se la trovo oddio non mi ricordo come si chiama in inglese beh dovrei comunque riconoscerla se la vedo non so l'arbi ma assolutamente no a meno che l'abbiano spostata però mi ricordo che era una delle prime mi sa che non l'abbiamo ancora trovata semitraglia mi sa di no non credo niente semitraglia per noi Hornich? no 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 Hornich sicuramente no bullet punch nemmeno niente non abbiamo semitraglia peccato avessimo avuto semitraglia l'avrei insegnata molto volentieri a Torterra serve Paul oh ho visto la Wallace Cup sono sorpreso che tu non abbia usato quell'opportunità per aiutare a crescere il tuo team con amore e fiducia non sprecherai mai il mio tempo in un modo come quello se devi forzare i tuoi pokemon a crescere in quel modo lo fai tu lo fai se devi forzare i tuoi pokemon a crescere è quello che fai tu non indipendentemente dal costo ecco quindi insomma il fine giustifica i mezzi per Paul il riassunto di questa frase let me see if your method if your method has gained you any skill fammi vedere se il tuo metodo ti ha portato qualche ti ha fatto guadagnare qualche abilità ma in realtà Paul lo stiamo disintegrando in continuazione e lui ha un life score ok allora noi li possiamo diminuire l'attacco va bene però andremo di fly ok non close combat ok X-Sysor non ci fa molto andiamo ancora di fly brutto colpo che culo buono poi Ursa Ring lasciamo Staraptor e andremo di Zuffa invece questo farà malissimo Ursa Ring ah però non lo shotta peccato aia ok non ci ha shottati fortunatamente andiamo di qui che attacca perfetto livello 38 per Staraptor you barely imagined to scrape by you're never going to make it with this kind of training I can't believe you wasted my time with that lui dice che perché crede che non riusciremo mai a insomma farcela con quel tipo di allenamento che facciamo noi e abbiamo pure sprecato il suo tempo vabbè cazzato eh però noi adesso andiamo a tirarci una curata velocemente pokemon ecco fatto così che poi siamo pronti per andare nel percorso 213 e proseguire verso Pratopoli in questa parte vorrei arrivare a Pratopoli e battere anche la palestra di Omar sinceramente quei due allenatori li avevamo già battuti strumento invisibile qui c'è una perla ecco fatto e purtroppo non abbiamo mostri tipo erba con torta erra davvero brutta questa cosa ma andiamo avanti Gligar allora contro questi pescatori vai questo ha bisogno di espandere la propria squadra ed è un Remoride ok contro il Remoride possiamo fare facilmente Acrobazia poi altro Remoride altra Acrobazia ecco il team di Ash in Asinno ha una grave mancanza in realtà ha davvero una grave mancanza ovvero quella di non avere attaccanti speciali cioè non ha attaccanti speciali tutti attaccano con l'attacco fisico ogni tanto ributto dentro anche qui che ci deve essere comunque la squadra allenata non ci sono problemi nel farlo qui altro strumento hop proseguiamo salve salve ho detto oh ha capturato un'arma lui è tutto contento perché ha catturato uno Yanma e manda in campo Pippi adesso Piplap va bene andremo di Acrobazia addio Pippi Pippi calzo lunghe guarda lì allora Yanma lasciamo tranquillamente Gligar che andrà ancora di Acrobazia Gligar è fortissimo come Pokémon non me l'aspettavo così forte vediamo se ci sono degli strumenti qui dentro oh oh Heart Scale buono allora altro allenatore hai mai sentito di un Pokémon di tipo acqua che non può evolversi beh dia a dia quella cosa ci dà una Water Stone va bene abbastanza inutile dato che abbiamo già tutti i Pokémon abbiamo già tutte le Water Stone che possono servirci probabilmente l'unica volta che ci servirà ancora una Water Stone sarà per evolvere la Scimina di quinta generazione Simipur mi sembra si chiamasse o Pampur non mi ricordo il nome preciso andiamo di Heartquake Sub famolissimo e addio Glammiao ok continuiamo a dare un'occhiata qui in giro oh oh HP Up fa sempre comodo e qui troviamo un'altra perla vediamo forse abbiamo trovato anche tutti no altra perla ok cercate in questi sassi ragazzi che trovate una miniera d'oro ok scendiamo Heart Scale buono allora mi converebbe quasi quasi andare dal ricordamosse per fare reimparare foglie lama a questo non mi combatto ok per fare imparare foglie lama a tua terra Footsteps House vediamo un po' salve ok ok questo valuta le orme dei Pokémon credo valuta quella di tua terra va bella pesante il Super Friendly ah ok no questo è ok ok ci da ci valuta l'amicizia non le impronte giustamente allora facciamo di dare un super fiocco a tutti questi Pokémon che sono sicuro che appunto hanno il livello di amicizia massimo con noi ok no Infernave no non ce l'ha però sicuramente Staraptor si dai con noi tantissimo tempo infatti poi vediamo un po' forse Buizel che è stato scambiato no niente ok sicuramente non Glagar dato che l'abbiamo appena preso ok gli abbiamo dato un po' di fiocchi ai nostri Pokémon allora di qua si può proseguire sì e si possono anche prendere delle bacche prendiamole quindi Agua Berries Yellow Shard Roast Berries e Yapapa Berries vai fatta anche questa parte del percorso si può proseguire più in alto eccoci qui allora vediamo un po' proseguiamo qui beccheremo per forza qualche Pokémon selvatico sperando di beccare qualcuno che l'abbiamo ancora preso tipo questo Krogank vai espandi il mio Living Dex Krogank qui fuori piano piano oh davvero è fuggito così e allora tocca andare di lacerazione non penso di shottarlo infatti con brutto colpo lo avremmo shottato però dai ho sperato che non andasse di brutto colpo andiamo poi di Pokéball dai dovrebbe entrare vita rossa usiamole un po' queste Pokéball che ci sono rimaste perfetto Krogank preso no grazie proseguiamo ah qui sotto non c'è nulla non sembra esserci nulla come altre altre sfere allora cerchiamo altri due Pokémon selvatici come sapete quando entro in un percorso mi piace fare almeno tre tentativi e infatti abbiamo trovato un altro Pokémon che non abbiamo buono 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 vediamo se la Pokéball questa volta funziona che prima contro Krogank non ha funzionato molto bene buono 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 anche Drapion preso non abbiamo ancora trovato Scorupi però ok abbiamo preso Drapion e ultimo tentativo vediamo cosa esce vediamo vediamo oh Shellos anche lui non ce l'abbiamo ma è una miniera d'oro questo percorso vai Quick Ball ecco sto facendo il Divindex ma non sto facendo il Divindex delle forme alternative cioè o nel Pokédex hanno effettivamente dei posti diversi delle entry diverse oppure se sono forme alternative che hanno un'unica entry nel Pokédex non mi metto a catturare anche gli altri tutte le altre forme ok siamo arrivati a Pratopoli salve questo ha perso I lost the Krogank ha perso il festival di Krogank mi serve più pratica e vorrei sfidarci attenzione vorrei sfidarci maggiore con il suo Krogank immagino allora Artquake no volevo fare Artquake vabbè è andata comunque bene approvazione super efficace giustamente di tipo lotta quindi tu pensi che mi sembra mi sembra diverso strano mi chissi mi chissi è molto felice for us would you like to learn the move that helped us win vacuum wave che vuole insegnarci vacuum wave nessuno dei miei Pokémon può impararla qui abbiamo Brock che vuole sfidarci quindi prima magari fate un salto al centro Pokémon guardatevi una curata poi qui dentro nel centro Pokémon non dovrebbero esserci tizi che vi danno qualcosa infatti e andiamo a sfidare Brock se non sfidate Brock sappiate che la palestra rimane chiusa quindi mando davanti Buizel Brock dovrebbe avere poco tipo roccia salve Brock siamo entrati nel festival del Krogank per impressionare le infermiera gioie e non ce nemmeno notati potresti tirarmi un po' su e non farmi pensare a quello va bene povero Brock povero bravi Brock io l'ho già detto durante questo let's play è uno dei personaggi migliori dell'anime cioè è davvero simpatico andiamo di Aquatail su Stuto Vudo che giustamente ha una bella difesa e quasi mi shotta complimenti Stuto Vudo con sdoppiatore mi ha praticamente shottato allora Krogank cambiamo Pokémon e mandiamo Tor Terra con un bel terremoto vai Heartquake ed infine Eppini contro Eppini direi di mandare Staraptor e andare di Zuffa proprio così cattivissimi vai Zuffa addio Eppini e abbiamo battuto Brock ottimo non mi arrenderò ne troverò una per me insieme a Krogank ma intendi di infermiera Joy? allora andiamo a modificare l'ordine della squadra tanto nella palestra di Omar non utilizzerò comunque Buizel però prima andiamo ad esplorare un po' questa città questa Pratopoli tipo qui dentro entriamo salve ragazzina vuole giocare con sarebbe Omar Great Marsh se non sbaglio ah no vuole giocare nella Grande Palude scusatemi totalmente svegliate vorrebbe giocare nella Grande Palude no Great Marsh non è la Grande Palude o credo no però dice che la stanno sempre usando per qualcos'altro oddio Great Marsh mettiamo nelle commenti in casa perché mi sfugge questo termine in inglese allora esploriamo salve vecchietta ogni tanto piove qui non sembra che finisca mai ok hey there wanna get rough changing item ma certamente e questo ci da round TM48 poi proseguiamo la nostra esplorazione di questa Pratopoli salve questo è il Pokémon Movie Maniac oh finalmente ok che cool l'abbiamo trovato subito si dove è torterra insegnamoli di nuovo foglie lama perché altrimenti qua diventa un casino eccola qua Razorleaf come vedete è l'unica mossa fisica di tipo erba che impara stupido Pokémon aspetta V-Dummer wait aspetta questi non li ha mai imparati però puoi insegnarli lui però prende molto danno da contraccolpo quindi non so se insegnarli V-Dummer perché se deve usare tante volte la mossa meglio Razorleaf a questo punto tanto sarà quasi sempre super efficace quando useremo più è stab quindi fa comunque dei danni atroci questa mossa V-Dummer sarebbe un po' overkid in continuazione quindi mandiamo di Razorleaf Razorleaf gli togliamo Rockslide che gliel'avevo messa così tanto per ma non sarà molto ma quel bite diventerà sgranocchio più avanti ok gli abbiamo insegnato quello che dovevamo insegnargli e poi allora diamo un'occhiata a te Totorale è così testardo spero che tu non debba mai allevarne uno in realtà l'abbiamo fatto a Ioto ha sempre voluto vedere un Pikachu per favore mostramene uno ok te lo mostro guarda qua bisogna metterlo di primo al primo posto altrimenti non lo vede oh ne hai uno grazie mille e ci dà un agliallo scarpa così giustamente per ricompensarci no diamo un'occhiata a questa agliallo scarpa che non mi ricordo di preciso cosa faccia allora non è che ma forse ne avevo già uno oddio ne avevo già uno yellow shard silk scarf no ma forse non ce l'avevo ah eccolo qua si yellow scarf aumenta la tough nelle gare tough cos'è la tenacia the great march è similar to the safari zone you can't use any pokemon to catch to catch them ok great march quindi penso sia la grande palude allora no o continuo a sbagliare salve addio anzi vendiamo le perle già che ci siamo tutte le perle che abbiamo trovato no non voglio comprare voglio vendere andiamo a prendere queste perle non se le trovo eh no aspetta queste erano i repel perle eccole qua vai vendile tutte ci liberiamo anche uno spazio dallo zaino poi dovrei fare un po' di ordine qui dovrei fare un po' di ordine perché abbiamo davvero tanti strumenti inutili in quella borsa e fortunatamente già ci sono le tasche diverse perché giocando alla prima generazione di pokemon mi rendo conto di quanto fosse disordinata la borsa senza le tasche diverse ah ti piace anche anche tu ami l'acqua e ti da la mystic water così a questo punto ragazzi direi che la mystic water la potremmo dare ne avevamo già altri eh ne abbiamo già un migliaio di mystic water però direi che potremmo darla a weasel non se la trovo eccola qua al posto della pietra stante ecco fatto e di qua si esce lungo il percorso 212 ma prima ovviamente dobbiamo affrontare la palestra è inutile andare in giro senza beccarsi la palestra tu cosa vuoi ok questo vorrebbe andare via perché è stanco di vivere in un posto bagnato come questo o meglio un posto umido sarebbe più corretto dire ecco qua la palestra non penso sarà troppo difficile sinceramente la palestra è tipo acqua eccola qua no aspetta ehi non uscire contro omar oh lotta in doppio bello dai allora andremo di tor terra e star o forse è meglio buizel sapete che è meglio mettere buizel magari che si fa un po' di livellini dato che buizel sarà indubbiamente il nostro pokemon più debole tolto gible che prenderemo probabilmente verso la fine e useremo pochissimo perché purtroppo come ben sapete usare dei pokemon al primo stadio evolutivo alla fine della regione è quasi impossibile perché sono tutti troppo più forti sono più veloci non reggono i colpi sono più veloci gli avversari non reggono i nostri pokemon non reggono praticamente nessun attacco quindi gible non so quanto riusciremo ad utilizzarlo effettivamente ah non mi sfidate let's battle ah tu si ok pensavo fosse una lotta in doppio invece no che wingle mi rompe le balle però wingle mi rompe davvero le balle e andiamo di razor leaf comunque che è stab quindi fa malissimo ok peliper cambia un pokemon e mandiamo contro peliper direi mandare pikachu vai ecco wingle e peliper rompono davvero le balle perché servirebbe un attacco elettro oppure roccia per tirarli giù quindi mandiamo pikachu e addio ok proseguiamo altra allenatrice anzi altro allenatore che ma nel campo bibarell bellino lui però è di tipo normale non acqua almeno da quello che ricordo ah no prende anche il tipo acqua quando si evolve ok non mi ricordavo questo giustamente comunque è un castoro quindi non posso andare dall'altra parte come faccio scusami I'll take you across the water ah ok devo parlare al bambino va bene vai sfidiamo anche Caitlyn la campionessa di League of Legends andiamo di Razor Leaf poi Azumari altra Razor Leaf ok ha resistito acqua tele giustamente ci fa un danno normale ah aspetta però è folletto perché è usato un po' morso sono stupido andiamo di Heartquake giustamente ci fa un danno normale perché pensiamo erba terra quindi bilancia la super efficacia della terra con la non molto efficacia dell'erba ok torterra a livello 39 vorrebbe imparare sintesi ma arrangiati ok sintesi no 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 ok portami oltre grazie sfidiamo anche lui quanti hanno deciso in questa palestra tra l'altro un casino a wish cash invece poverino si prende 4 per da erba essendo se non sbaglio anche lui acqua terra però riesce comunque utilizzarsi i water puls c'è stai infame crepa va perfetto io vorrei andare lì però non posso ok andiamo a battere lui prima ma nel campo wingal wingal abbiamo visto che anche con foglie lama lo possiamo tirare giù molto facilmente quindi foglie lama no ha fallito ok l'ho usato agilità per essere più veloce era già più veloce e comunque nel secondo turno abbiamo attaccato prima noi per il quick blow anche questo è super efficace mi sembra che anche shellos sia forse acqua terra o gastrodon diventa acqua terra quando si evolve ok ci ha tolto lo stab lui ci ha tolto lo stab allora andiamo di morso perché ci ha fatto diventare tipo acqua momentaneamente per la battaglia you're strong beh grazie ma come cacchio faccio a tornare indietro good luck ok questo mi porta oltre ok tu mi porti invece in basso perfetto io vorrei andare dall'altra parte grazie e sfidare anche questo eh vai sfidiamo anche lui eric con golden che hanno dei pokemon anche di tipo kanto questi oddio di tipo kanto che cazzo sto dicendo di della regione di kanto oltre anche dei pokemon della regione di oen e della regione di yoto effettivamente non sanno tenersi proprio i pokemon questi devono andare a pescare in continuazione nei nelle regioni precedenti ok andiamo di electroball contro geridos e non ho retto chi manda però vabbè mandiamo comunque star after non c'è problema anche perché adesso andiamo di close combat si prende un bel po' di danno ok l'uso agilità completamente a caso e noi andiamo ancora di close combat perfetto a questo punto direi di farci una capatina al centro pokemon ehi non mi porti la ma infame ok niente devo per forza fare tutto il giro così ok un po' scomoda questa cosa però allora a questo punto non torno al centro pokemon mi do una curata non ci volevo fare ancora tutto tutta la tiritera qui mi do una curata con la sua proporzione e andiamo tanto non penso che sia molto difficile amare sinceramente benvenuto stavo davvero cercando una bella battaglia i miei pokemon sono stati rafforzati dalle tempeste bianche dalle tempeste no aspetta dalle bianche acque tempestose ok they'll take everything you can throw at them and then pull you under sopporteranno tutto quello che li tirerai addosso e poi ti sottometteranno ok andiamo di torterra poi di pikachu e di staraptor vai ovviamente con pikachu in campo non possiamo perdere questa battaglia ma in generale anche mi sa che torterra farà attenzione forse torterra non farà proprio niente perché geridos è proprio un pokemon che lo mette in difficoltà oltre di migliori l'attacco dragon rage foglia lama ah qualora tra l'altro un tutto colpo ecco come vedete mi ha diminuito l'attacco quindi un po' lo sentiamo eh questo geridos però torterra riesce comunque a vincere fluazel lasciamo torterra e andiamo di razor ah rimasto con un hp infame e si è mangiato anche la bacca cedro addio torterra se è stato molto utile alla causa a questo punto mandiamo staraptor con volo dovrebbe risolvere comunque la situazione oltre di migliori d'attacco buono ha provato ad usarci mulinello tra l'altro lui si aumenta l'attacco e la difesa però non penso possa resistere a volo infatti con quella vita perfetto livello 39 per staraptor e infine manda coxire ecco qui torterra avrebbe sicuramente shottato con un attacco foglie lama dato che se non sbaglia acquaterra coxire ok ho usato sbadiglio quindi cambiamo pokemon antrenetis addormenta mandiamo pikachu ora verifichiamo subito se ricordo bene che fosse acquaterra vediamo electroball si infatti acquaterra non affetto anche lui ha fatto sbadiglio ma noi lo tiriamo giù con breccia nel frattempo tra l'altro la musica è finita della lotta non si sa bene per quale motivo sembra che sia stato io ad essere stato sconfitto sottomesso chiamate un po' come volete ti sei guadagnato la medaglia acquitrino eccola qua e anche accostamenti acquaget che è abbastanza inutile purtroppo attacca sempre per primo sia è l'attacco rapido di tipo acqua praticamente quindi relativamente inutile buisol ce l'ha perché ha una mossa diciamo sua significativa però è abbastanza inutile alla fine acquaggetto quando lo useremo è letteralmente l'attacco rapido di tipo acqua ha iniziato anche a piovere qui a pratopoli quindi andiamo subito verso il prossimo percorso ovvero il percorso 212 mentre questo è ancora qui col suo topodile eccoci qui e prima però di proseguire nel percorso 212 in questi appunto acquitrini vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Glacial Sphere è tutto al prossimo video